Ciao, piccola grande vittoria del Movimento 5 Stelle in riferimento all'edilizia scolastica toscana, con un po' di trattativa in aula, scontri durissimi, su tre proposte, due ce ne hanno bocciata, una approvata, anche il PD d'accordo sul richiedere a Renzi un impegno per l'ampliamento dell'anagrafe dell'edilizia scolastica. Potremmo finalmente avere un quadro di quello che c'è, la fotografia dello Stato, delle scuole toscane e possibilmente anche pianificare successivamente tutti gli interventi per la messa di sicurezza, per il modernamento degli edifici.